Buongiorno a tutti, che ci crediate o no, questo ero io 25 chili fa. Era il 2013 e stavo lavorando felicemente presso una squadra sportiva. A proposito, complimenti per lo scudetto. Il 6 gennaio ricevetti una telefonata con una proposta di quelle che non si possono rifiutare. L'allora presidente del consiglio, professor Monti, aveva deciso di salire in politica costituendo una lista civica e mi fu chiesto di dare una mano sui temi digitali. Ci riflettei un po' e poi dissi va bene. E fu così che con le elezioni politiche del febbraio del 2013 fui eletto in Parlamento alla Camera dei Deputati e mi misi al lavoro. Cominciai a parlare con i colleghi di altri partiti e con gli addetti ai lavori e lanciai questa proposta di un sistema unico di identità digitale. Identità digitale per i tecnici è una cosa molto chiara, molto definita. È una parola, è un termine che può determinare incomprensioni con persone non informatici. Forse se potessi tornare indietro cambierei questo termine, lo chiamerei sistema di autenticazione. L'identità in Italia viene data dai genitori, viene registrata che decidono il nome dei figli, ci sono delle regole in merito al cognome, delle leggi e poi viene registrata dal Ministero degli Interni ed è quello che dà i documenti. Documenti sulla base della quale poi si costruisce tutto, dalla tessera d'abbonamento del tram alla tessera universitaria, della biblioteca e via dicendo. Ecco, il sistema di identità digitale si basa allo stesso modo sui documenti rilasciati dall'autorità, dal Ministero dell'Interno, dalla Questura, carta d'identità e passaporto e costruisce su questo un sistema di autenticazione. Nell'aprile del 2013 si insediò il governo Letta, il Presidente Letta nominò Francesco Caio commissario per il digitale e Francesco chiamò con sé una persona. E mi piace ricordarlo qui, Andrea Rigoni, che fu l'anello di congiunzione diciamo tra i tecnici e i legislativi lavorando all'interno della task force di Francesco Caio e ha questa idea di questo sistema condiviso di autenticazione in modo tale da poter aumentare la quantità di servizi digitali resi al cittadino e anche di abilitare il fatto che fosse riconoscibile una persona ad esempio per dei contratti in modo certo e anche per dei fornitori di servizi privati. A lui si deve il nome SPID, sistema pubblico di identità digitale. L'anno successivo, il 2014, arrivò l'Europa con il suo regolamento EIDAS che è un regolamento di servizi fiduciari con valore circolare in Europa, ovvero sono servizi fiduciari che vengono riconosciuti tra un paese e l'altro per cui la mia identità SPID, le mie credenziali SPID possono essere utilizzate in Danimarca, in Svezia, in Francia, in Portogallo e anche i servizi di firma digitale e anche tutta una serie di servizi di recapito certificato qualificato in Italia la nostra PEC, sono cose che hanno un valore riconosciuto in Europa e naturalmente se questo valore è riconosciuto ogni catena è forte quanto il suo anello più debole per cui tutte le regole devono essere condivise perché non possiamo pensare all'interno di questa catena di avere dei fornitori meno affidabili per cui ogni scelta in materia di evoluzione di questi servizi va condivisa con i nostri partner europei. Adesso faccio un salto indietro di qualche anno prima che gli entrassi in Parlamento e questo signore è Lorenz Lessig in un intervento alla Camera dei Deputati. A lui si deve l'idea dei Creative Commons, quel sistema che arricchisce il copyright con delle regole che consentono la condivisione e il riutilizzo gratuito di opere dell'ingegno, ma lui si deve, lui che è un fine costituzionalista, si deve anche un'osservazione molto interessante. Lui scrisse un libro molto importante, Code, e lui osservò che il codice è legge. Così come le leggi ci consentono o non consentono di fare determinate cose, anche il codice ci consente di fare o non fare determinate cose. Certe funzioni delle nostre vita, se sono previste dal programmatore le possiamo fare, se non lo sono non lo possiamo fare. Se lo erano ma poi il programmatore che gestisce quel sistema ce le toglie, ecco che noi non possiamo più farlo. Vedete, alcuni sistemi autoritari, in alcuni paesi autoritari, già oggi il codice viene usato per determinare chi ha accesso a determinati servizi oppure no, stabiliti da un'autorità centrale. Il codice è legge, un'autorità centrale che decide delle cose e abilita o meno il fatto che le persone possano fare o meno determinate cose. È un potere. Questo signore è Montesquieu, a lui si deve l'idea moderna che conosciamo dello Stato con la separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Un sistema di controlli e bilanciamenti per assicurare che uno Stato possa avere, che la democrazia possa funzionare, che non ci possano essere degli abusi da parte dei sistemi autoritari. Montesquieu, il codice, questo nuovo potere, dove lo avrebbe messo? L'esercizio di questo, la definizione magari all'interno del potere legislativo, così come si definiscono le leggi, ma la gestione del software, l'operatività, sotto l'autorità del potere esecutivo, come avviene in certi Stati autoritari, appunto dove si possono decidere di togliere alle persone determinati diritti e facoltà, o sotto, e magari arbitrariamente da parte dei suoi vertici, o sotto il potere giudiziario, che è un potere separato, che vigila sugli altri, che vigila sul paese, sull'esecutivo. Ecco, probabilmente l'avrebbe posto in qualche modo sotto il potere esecutivo. Questa riflessione fu alla base delle nostre discussioni su come fare a organizzare il sistema federato, intanto federato e non centralizzato, di identità digitale, il sistema di autenticazione. Noi prevedemmo che gli identity provider, questi signori che gestiscono il meccanismo di autenticazione, per inciso ognuno di noi può avere proprie credenziali da più fornitori, non è mica detto che debba averli solo da un fornitore, può averli da più fornitori in modo da disaggregare ulteriormente i propri dati, questo soggetto noi prevedemmo che potesse essere svolto sia da soggetti pubblici che da soggetti privati. Perché da soggetti privati? Perché i soggetti privati, come avviene per la posta elettronica certificata, per la firma digitale, un sistema già rodato e di grande successo, questi fornitori privati sono soggetti a tutto un insieme di controlli e di bilanciamenti. In primo luogo la magistratura, evidentemente, quindi il sistema giudiziario, poi un'autorità indipendente, il garante della privacy, che applica regole europee, il regolamento per i dati personali e che stabilisce dei precisi, la legge stabilisce dei precisi limiti su quello che il fornitore di autenticazione, l'identity provider, può fare. Ciò è nulla, non può fare profilazione, non può conservare in tempo indefinito i dati, non può rivenderli. Grandi garanzie sull'uso dei nostri, in definitiva l'identity provider, il fornitore di servizi di autenticazione, sa esclusivamente quando accediamo all'INPS, non sa che cosa facciamo con l'INPS. Però già questo è un dato che non può essere usato. E ci vigila l'autorità garante per la protezione dei dati personali. E poi l'Agenzia per l'Italia digitale, che è l'anello europeo di questo insieme di autorità, chiamiamole così impropriamente, di sistemi di controllo e vigilanza che ci sono in Europa per assicurare che il livello sia omogeneo e che quindi ci si possa affidare a livello europeo. Ecco, vedete che questo è un meccanismo che prevede dei controlli e dei bilanciamenti, dei checks and balances rispetto all'utilizzo di questo nuovo, piccolo ma importante potere, che è il codice dell'autenticazione digitale. In che linea potrà evolversi? In Europa si sta discutendo del fatto di arricchire questo meccanismo dell'identità digitale con quello che viene chiamata la self-sovereign identity, che non vuol dire che sono io che dichiaro chi sono, ma sono io che custodisco i miei dati. Un'attestazione, ad esempio il mio diploma di laurea, viene messa in digitale e conservata all'interno del mio dispositivo in una sorta di portafoglio digitale e sono io che decido a chi esibirla, esattamente come se fosse, in modo analogo, come se fosse un documento cartaceo. Facciamo un altro salto indietro e torniamo al 2001. Il 2001 è l'anno in cui nasce l'iPod, è l'anno in cui nasce la DSL, è l'anno in cui nasce l'internet per come la conosciamo. Un'internet che fino a quel momento era una rete magliata composta da tanti nodi e servizi cooperativi, c'erano tanti fornitori di posta elettronica, ce ne sono molti meno oggi. Cos'è successo in questo periodo? Nell'evoluzione le norme hanno consentito la nascita di un modello alternativo. Tra il 2008 e il 2010 sono nati, è arrivato Facebook in Italia, è nato Instagram, è nato Twitter e tutti questi servizi che hanno seguito un modello molto diverso rispetto all'idea originale di internet distribuita e federata. Hanno promosso un modello consentito dalle norme, abilitato dalle norme, un modello centralizzato. Cioè oggi internet è sostanzialmente il luogo di grandi servizi centralizzati gestiti da grandi monopolisti, contro i quali ci sono un sacco di azioni antitrust e interventi regolamentari che si delineano in futuro per cercare di limitare il loro potere. Bene, questo è successo tra il 2008, quando sono nati questi servizi, ed oggi, in una dozzina d'anni, circa 2008. E in questa dozzina d'anni c'è voluta la professoressa Zuboff che ci ha fatto svegliare e ci ha messo di fronte al fatto che internet è diventata una macchina per quello che lei chiama il capitalismo della sorveglianza, cioè si monetizza il fatto di farsi gli affari delle altre persone. Si fanno denari facendosi gli affari delle altre persone, il capitalismo della sorveglianza. E allora noi ci dobbiamo chiedere, andando in avanti, che tipo di modello vogliamo seguire. Se vogliamo seguire un modello distribuito, decentrato, come l'idea dell'orientio originario, o un modello centralizzato. E questo modello centralizzato, se decidiamo per questo, sotto quale autorità risiede. Quello che è successo in questa dozzina d'anni è successo che il mondo, che è sempre stato, aveva questa sua dimensione fisica, che cambiava molto lentamente, in qualche decennio, in pochi decenni, si è arricchito di un'interfaccia utente digitale, immateriale, che è diventata la principale interfaccia utente della dimensione materiale. Cioè noi oggi agiamo sul mondo mediati attraverso i nostri dispositivi. Facciamo un salto in avanti e pensiamo al 2030. Cosa succederà nel 2030? Questa cosa sarà ancora di più a livello europeo. Tutto quello che faremo, contratti, litigi, disdette, sarà tutto svolto in modo digitale. Presentazioni di documenti, partecipazioni a gare, a concorsi, tutto sarà svolto in modo digitale. E quale modello, quale paradigma vogliamo scegliere? Quello che noi avremo nel 2030 dipenderà dalle scelte che facciamo oggi. E le scelte che facciamo oggi devono tenere presenti, in primo luogo, che lo Stato non è un'azienda. L'obiettivo di un'azienda è quello di massimizzare il ritorno degli investitori, è orientato alla pura efficienza. L'obiettivo dello Stato è orientato anche alla resilienza, è orientato anche al fatto di garantire che ci sia la democrazia, che venga mantenuta la democrazia. Lo Stato non è un'azienda. Lo Stato è una cosa anche diversa perché ha il monopolio della forza. Un'azienda non può metterti in prigione, lo Stato sì. E quindi non è come gli altri soggetti. E anche questo deve essere un criterio guida quando pensiamo a questo nuovo potere del codice come lo pensiamo se federato, centralizzato e sotto il controllo di quale potere. Dobbiamo ricordarci sempre che si può entrare in un sistema autoritario semplicemente votando, ma non è altrettanto facile uscirne. Se pensate che questi siano paure infondate, questo è un tweet di un senatore di una grande democrazia occidentale, un tweet recente, in cui dice che la democrazia non è l'obiettivo, la libertà, la pace e la prosperità lo sono. Noi vogliamo che la condizione umana sia fiorente. La democrazia elettiva può essere una minaccia. Perché? Perché votano delle persone che non sanno cos'è il meglio per loro. Noi elite sappiamo. Questo ragionamento è la base di tanti sistemi autoritari. Noi sappiamo cos'è giusto per il popolo e quindi è un'idea, rispetto alla nostra idea di democrazia, abbastanza stridente. La democrazia, e questo non è accaduto a secoli orsoni, è accaduto qualche mese fa. La democrazia, non dobbiamo dimenticarlo mai, è una cosa fragile e guai a darla per scontata, nemmeno nei paesi di lunga tradizione democratica che hanno insegnato queste cose al mondo. La democrazia è una cosa fragile. E allora va protetta. Bisogna costruire nei momenti di luce le salvaguardie strutturali, anche digitali, che ci tutelino nei momenti cupi. Perché se no il rischio è che un giorno ci potremmo svegliare e trovarci una sorpresa. Le scelte che facciamo oggi determineranno il nostro futuro. Facciamo le giuste. Costruiamocelo buono, come si diceva in ritorno al futuro. Buon 2 giugno e buona festa della Repubblica a tutti. Grazie. 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 Grazie.